musica 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 un po ma te sempre mo proviamo con farrai oggi eh oggi con farrai 3 spacco il culo quello da detto questo assisto uccisione mi hai salvato sto ricricando dove stai ma quelli appesi li conoscevi si stavi situati non to' una finaccia assist alla testa ma che c***a con queste armi che non c***a che mi tira la granata c***a attaccami sono a secco no pure io so secco so secchissimo via la carci via la carci devo curare questo pericolo guarda che taglio me li andrizzo le ossa fammi via l'arma vabbè pompa ricarico dici che così te vogliono più bene eh eh le munizioni insomma le scarseggia ultime munizioni prese di munizioni là c'è stato un bel mucchio di munizioni qua a destra c'era tipo una casupola con le munizioni aspetta che li cerco successo inizia la caccia fino adesso che stiamo io sto per morire invece ma quante ce n'hai le siringhe cosa vede che ne so se tosto a chiede non so se non so se ti rispondo così per di che manco io qui c'è stato un anno ma dovremmo venire qua e riparare sta barba obiettiva perché sono morti tutti ragazzo ora che vogliamo aprire questa porta o lo lasciamo marci e consigliati a te ma glielo spara magari ma che è l'urlo l'ho fatto io e me ne ha fatto uno pure a me però non so che ha fatto qua dentro le mannate si ciao ciccio come va ma chi è ma il tossico di zona chi è o gli inglesi a caccia degli stranieri questo subito che sta colla e voli i soldi lo vedi che sto c'è gli ha salvato il culo e ti chiedi i soldi sta merda spara io in testa se puoi andiamo da soli fatti i casi e poi dopo lo tocca ricominciare dall'ultimo checkpoint se lo potevamo ammazzare si ma ne vale la pena ne vale la pena ma non potevamo andare da soli aspetta due secondi sono utili in combattimento ho raccortato le dosi ora devo riparare la barca mi pare mi dice quattro per usare kit riparazione dai prese le dosi dentro la casucola prese le dosi hanno arrivato la barca questo voli i soldi l'hanno salvato allora ti ripara io sparo a stu ma dove stanno ma dove arrivano dove ci mette a riparare la stessa barca eccoli ecco li ho visti sti bastanti arrivano proprio alla cazzo mannaggia da fuoco a tutto compreso quals stronzo andiamo a piedi ci arriva ne è arrivato uno meglio è venuto da solo ah ecco si vabbè come su mi ha detto ma io posso ricaricare occhio dietro fuggire da cecchino non è proprio indicato queste situazioni hai riparato o no? ho riparato ma è a palla ma non va ah perché tu devi far no 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 devi far praticamente devi resistere a che questi ti sponano a barca e tu quando ti sponano che arrivano devi riparare praticamente devi star qui finché mi sono finiti scoppa quello dai asist uccisione bacca come sta? boglione certo vestisse le rosse una giungla però un'enteligentissima come è così nemici in arrivo dal fumo nemici in arrivo da? dal fumo dal fumo dal fumo questa c'è la spona non muove qua che è il potenziamento? come potenzio all'arma ma guarda sta sacco di merda guarda chi muore è morto e sbrigate con sto sardatore sono tre ore guarda che non ti parlo ho capito finché non ammazziamo tutti non partiamo non hai capito ancora qualche riparazione ah ecco l'arco non è un minuto quella è andata a fondo hai visto ma va che riparo io un po' no cioè forse te mo fanno due vedi stato barca mi risulta a palla solo che no ma anche un pezzettino no no ma lì da sto a palla ma niente devi affrontare le ondate ma io voglio ammazzare lo stronzo di prima c'è chi sa il culo voli i sardi e ti mette pure a te riparare oh guarda questo onde sta devo cambiarma però seriamente devo veramente cambiarma sei svegliissimo pure te eh si si no devo ricaricare c'ha ragione dai questo c'è chi merda è quasi finito i colpi fatto dai sei andata la barca oh ti ho detto che era un figlio di una mignolotta se vi serve un passaggio sapete chi chiamare come ti pare barcaiolo come come ti pare barcaiolo no andamote qua se n'è andato non c'è mi ricordavo che succedeva qualcosa di simile mi serve un po' ecco vai da me sto cucire no non me lo cambia tu lo sei preso te la faccia di me hai scambiato il fucile tuo col calaschini confesa qui c'è qualcosa occhio qua ci stanno munizioni qui c'è un altro ma sa come spiglie le gravine qua c'è un cecchino c'è un cecchino no ce n'è più the world stanno sti bastati colpi finiti benissimo ma come ammazzo non so se chiedi questo senso devo trovare un guado ma è corto di munizioni sono corto di munizioni lo sa ragazzi stanno giù merda m'ha preso vedi se riesci a cecchino stiamo giù alzati il combattito non vado da là perché mi sa che te via io faccio giro da sotto andate o restate non mi sono le munizioni e giù a sinistra no m'ha preso pezzo de merda mentre sta andrà no m'ha preso pure no sono proprio un coglione pronto pronto rifamolo rifamolo pronto pronto ma perché c'ha un barile dietro volevo spara a quello ma m'ha preso con un corpo solo sto maledetto stavolta è un cecchino mica una vecchia al mercato un cecchino beh in effetti una vecchia al mercato è bella come immagine proprio si che poi è meglio del cecchino però oh è da uno sposte a curti perché l'ha vista pistola di merda strato tutto il caso io voglio ammazzare col bastardo da cecchino sai che gli vedo una cifra di scatti però non mi ricordo se si può si io io lo faccio come vabbè con lt con il grilletto giù la scattura questo ci aspetta giù allora uno è morto del cecchino, ora vi o l'altro c'è l'altro, l'hai visto da lontano, aspetta oh, sono arrivato qui a piena di munizioni, chiedo sto in bocca spara a questo, spara a questo se deve e ce l'hai voluto venite un altro cecchino ma c'è ancora qualcuno, si, eccolo il bastardo aspetta, no ma ci metti poco a ricaricare, devo dire si, si, poco ciao cecchino io gli ho dato una botta e ti ho dato l'altro, ce n'è un altro, sta qua no, non stavo a mirare, maledetto arrivo hai preso? si ok, allora io vedo che ci sono finito chi è? ho fatto partire a barca ciao dove stanno? uno sta lassù per cercare lassù, mi dai nella direzione fronte a te a sinistra eh, non vedo proprio perché sta tipo dentro la gara mi sembra il butto in acqua, no? che arrivo prima sempre distruggiamoli o, ecco, ecco ecco granata ricarico ma che ha detto un culato vada mi hai salvato il culo che falle con il devo ricaricare quello stava cercando di fare dove stava la mitragliatrice c'è una munizioni si munizioni qua proprio morto successo gatto col topo qui munizioni no checkpoint raggiunto ricarico ma di dove sei tu di alba mia ecco va bene che loro si educati no ma che fa aspetta un attimo ho scambiato il kalashnikov con la pionna aspetta che io intanto voglio dove stai? che è successo? checkpoint che hai fatto? non lo so ci hanno firmato prendi una bomba alla volta e piazza oppure rubala c'è che devo fare? c'è che devo fare? devo andare con questi quad a prendere queste lucette gialle è tosta questa mi ricordo preparate allo scontro perché devo pure sparare poi mentre no non credo non credo non mi pare e vedi qua rimpiango il pallo ma quante ne devo prende? una sola una sola e devo scala guarda che tramba guarda che tramba sai ne devi prendere una e portarla all'obiettivo vai capito come stai? ah eccolo la prima volta eh ma mi segna ma ne vedi? eccola ma dove stavo più più? quello giallo come tutti gli obiettivi dei parcai boh stavamo per tamponare piazzare come si fa? devi solo passare vicino che lui sparisce e ti segna che gli ha depositato la bomba vada ti ho fracciato dove sta l'altra bomba? eccola la occhia all'arbero mamma mia capirai affatto un frontale con un arbero con una bomba ah mo avevo capito alla fine quello che dovevo fare se sei arrivato prima te vabbè tanto devo solo piazzarle penso poi le piazze le piazze le piazzate hai vinto te ha vinto cosa? ma non diamo te pensa che era una gara boh aspetta un attimo e me mi fio da fumare vabbè brekk mi sembra carina a dire la verità il guaio che mi pare che quando ricominciamo ricominciamo sempre da inizio mi pare se sei adesso uscito se mi stai piazz per culo ma no non c'è credo speriamo ma mi pare che era così vabbè vabbè quanto è lunga vero? ok e che palle munizioni ma sempre sta pistoletta che merda si perchè te fa partire lasciami quelle che ho quando ho finito l'altro round si ti piacerebbe devo fare il cecchino e poi voglio l'armona eh quell'uomo occhio al coltello sto gioco è proprio rozzo rottano pure oh occhio si infatti si guarda quello laggiù ma andiamo stelt o abbiamo da dietro o andiamo così ecco perchè io faccio le domande se tanto te fai come cazzo ti pare era una risposta vedila così allora a sto punto faccio così ma chi è stomato? ma che vuole? ma sta a finire un bastone si hai visto io quella fitta quando un uomo col fucile incontra l'uomo col bastone e l'uomo col bastone dopo morte ma che è? dipende quante ha grosse il bastone attenzione che no? c'ha accorto ma ammazzato col bastone eh perchè stava riferito ci hanno messo un atto aveva parlato quello ma sventrato a bastonate eh te vorrei far notare io stavo a veneta a star ma mi è uscito fuori da dietro io stavo cambiando l'arma ma mi ha ammazzato ma metti pronto forse perché a dire così pensa quanto è incazzato se te mena col bastone e tu c'hai il fucile beh ho appena detto lo amo col bastone no sei indeficente ma karma ti ha puniti è il karma delle munizioni un'altra volta te lo vieni quante cazzo le munizioni te lo vieni andiamo stelt? ammazzamo quello stelt? ma che stelt? ma che mica ma ci fanno cacciare ha un coltello chi? ehi stelt come fai però mo' dici annaie proprio da dietro si a parte il fatto che questo è come se fosse stelt sta kill perchè io c'ho il silenziatore quindi aspetta che ecco vedi? allora fa te eh provo eh si si non sai uccisione furtiva mancato eh però a me sa che ti hanno chiamato guardi è natore esteso che cazzo che te puoi tenere più colpi prima di ricaricare cecchino dov'è cecchino? ma chi è quello coltello? granata io ho trovato uno ricarico eccolo cecchino grazie a questo è il coso che non vedo lui vado da le quale 9 da manco io stavo all'ora e chi non la terra no 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 ho perso ric radialista la la al a d'anta ma dove io sta qua dietro Oh, ma ricarichi una continuazione, ma che gran palla No, ma che cazzo, ma ti ho sparato Coprite, coprite, coprite Che devo fare? Odio i cani No, mi sono tirato la bomba addosso, levati Ma che mi hai tirato una bomba? Che sta a dire, ho tirato mi sbagliato la bomba addosso Davo proprio fastidio, eh C'hai usato una granata Vabbè, se gliela fai recuperare Non stai Ma porca mignotta Ma ti hanno crepato o sei? Mi hanno crepato sì, mi sono girato, mi sono tirato questo stronzo e mi ha dato una botta in testa Sempre quello col bastone, da tre ore per quello che ha detto È proprio una merda sto cosa Fa culo Pronto? Vai Sì Allora, questa ce la rifà sempre da inizio, no? Ehi, di qua! Seguiamo le tracce! No, check point, dici Sì, cazzo Zitto, zitto, di che ne è da inizio? Ho trovato esplosivi! Ho trovato esplosivi? Ma che è indiano questo? Stato bravo, stavano su un tavolino onde lo passavi Lo dice come capito, no? Sono stato paraculo Pazzo deficiente con le molle Pazzo deficiente con le molle Oh, c'è una dose qua Oh, bada, c'ho dietro Oh, bada, c'ho dietro Oh, c'è una dose qua Oh, c'è una dose qua Oh, c'è una pistoletta non si può fare comunque è gioco ma inizio è gioco esciò non è Watch ecco a v почему è gioco che che sbaglio sta qua guarda sta merda eh si ne ha fatto altro devo ricaricare c'ha la cottese merda sei di no se sta a vedere no no se c'è un eseridione no sta noto è qua ma io devo cambiare ma ecco il nuovo è tutto il meglio questo al momento l'ho preso poco ho finito le munizioni ok allora eh dai costo riguardo occhietta ha tirato una granata o sta per terra cioè a caso intendevi no pure a me ci ha ammazzato un cane è un segreto ma da te è arrivato si siamo ripartiti vedi ce l'ha data libera no però che tristezza sei tu chi ha detto no c'è una bomba a mano io te devo coprire tu devi andare sul ponte quale ponte? da dove siamo venuti posso cuore no? mamma mia capiera ci metto tre ore guarda mo che botto che faccio la bomba c'ho davanti questi sparano da davanti no è solo una torta non me preoccupate e chi è il compleanno? l'intertossico è tanculata la barca vabbè ma la cobbia la posso poggiare però tanto se la teniamo qua gli crepiamo e poi cosa che la devi mettere? oh clori la devi mettere là no copri ma eh io la vado a mettere là dove avresti dovuto mettere la te no ma è una rottura dei coglioni vabbè ma perché la puoi poggiare un attimo e poi recuperi poggiala poggiala e copri perché sto cosa per ricaricare ci mette tre ore ma questi oh caraci non fa aspetta aspetta da me posso ne morire come poche pallotto le filammo che ha fatto lancia una granata lo porto io montate di guardia lo stanno in merda eccolo ricarico e la pia l'altra e la fai? si penso che si ma questa è più vicina ma perché non mori? e vaffan... ma che c'hanno di per giubbotta certi eh si ma curate 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 sbrigate 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 questo lo porto io ma dovete confermi arrivo e ha un parolone no vabbè ma tanto qua ciao è una volta completamente tralasciata al lato sinistro c'è stava una festa vabbè ma guarda questo com'è coperto occhio c'è una cifra abbattato devo ricaricare granata no ma vaffanculo ma mentre ricarico ma ci metti 30 anni per ricaricare per ricaricare la cifra c'è chi ma vabbè ma pure noi fanno i cifra cifra in prima linea Sì